amici ma soprattutto nemici bianconeri buonasera buonasera ragazzi io come farò senza allegri quando quando lo manderanno via come farò come però il dottore allegri non si può non si può non si può il dottore allegri laurea 110 e lote con la pubblicazione dell'adesi su argomento difese immunitarie vedi caro allegri questo di qua è lo sciroppo per le difese immunitarie fornito dalla windows football club spa società per amici ai giocatori della ue perché se sei troppo entusiasta perché siete troppo galvanizzato perché sei troppo eccitato allora si abbassano le difese immunitarie quindi difesa il sciroppo fornito dalla f dalla windows f fc spa portiamo qua allegri alle come faccio come farò io quel giorno dopo quando tu non ci sarei più nel senso nel senso diciamo brutto del termine nel senso che non sarei più alla via qualcosa bisogna inventare una domanda li hanno fatto seria una domanda questa è importante questo mi sembra una domanda li hanno fatto seria una domanda se lei domani non dovesse vincere o meglio se lei non dovesse andare in champions league negli ottavi non riderebbe un fallimento un fallimento personale nooo assolutamente è che c'è lei che sono allenatore io che faccio parte del gruppo se vinciamo e passiamo agli ottavi il merito è mio se perdiamo e non andiamo alle ottavi o andiamo in europa league oppure non andiamo neanche in europa league la colpa degli altri ma ne possono accettare mi raccomando domani tutti con lo sciroppo perché le difese immunitarie devono essere atti grandi e allegri ti amo ma stisci incazzati fino alla fine forza io